La notizia è per certi versi sorprendente. Nel 2013 in provincia di Sernia il numero di nuove imprese ha superato di gran lunga quello delle aziende che invece hanno abbassato per sempre le loro saracinesche. Il dato è stato diffuso da Infocamere sulla base delle iscrizioni registrate dalla Camera di Commercio. L'anno scorso hanno aperto poco meno di 650 società, mentre le cessazioni di attività sono state circa 380 con un saldo attivo di 255 imprese. Penso che qualcosa come valore aggiunto è stato dato dal fatto che abbiamo creato questa task force per i giovani, quindi per le start-up, insieme alla FIMMOLIS e qui presso di noi, per cui diamo un servizio veramente a 360 gradi a chi vuole avviare una nuova attività e in più collateralmente stiamo spingendo molto sull'internazionalizzazione, e quindi anche per le aziende che sono già presenti e quindi non start-up diamo questo supporto importante dell'internazionalizzazione che permette di essere ancora vivi e di essere ancora sul territorio. Sono dunque soprattutto i giovani a tentare di salire sul treno che ci si augura porti alla ripresa. Ad aiutarli è vero, ci sono soprattutto gli incentivi e varie forme di finanziamento, ma anche loro ci stanno mettendo del proprio. Abbiamo anche dei settori che sono molto interessanti, nei servizi per esempio, ma anche nella produzione, e sono delle attività che hanno anche dei confini interregionali e anche internazionali in alcuni casi. Per questi noi adesso faremo un bando anche di e-commerce che darà un'ulteriore spinta anche a chi già esiste. Che questo sia solo un fuoco di paglia o davvero un primo segnale di uscita dalla crisi lo si vedrà soltanto nei prossimi mesi, ma il presidente della Camera di Commercio di Sernia preferisce comunque vedere positivo. Penso che sia un minimo segnale di ripresa, che tanto minimo poi non è per il nostro territorio. Ritengo che le cose che stiamo facendo il mercato le sta accettando, in particolare stiamo comunicando i servizi che offriamo, che sono veramente utili per le aziende. La Camera di Commercio ha tutta una serie di servizi gratuiti che possono essere offerti, quindi tutti quelli che hanno esigenze di sviluppo, esigenze di avviare nuove attività, di investimenti, possono rivolgersi da noi. Grazie. Grazie.